Nel campionato delle sorprese e dell'equilibrio in nevetta, Roma-Inter resta una partita a scudetto per quello che hanno fatto nelle ultime due stagioni per il loro potenziale. Dopo sette giornate non può essere decisiva, ma il risultato di stasera può pesare come se può pesare sulla prosegua del campionato. Stadio Olimpico e ancora Roma-Inter, una buona serata da Maurizio Compagnoni. E Antonio Di Gennaro. Risa ha recuperato il pallone, di sinistra la Roma, spinge Rise, accompagna Vucinic, si accentra Rise, parte il tiro! Conclusione improvvisa, blocca Giulio Cesar. Attenzione, posizione regolare di Ibrahimovic, è uscito Doni, porta voto Ibrahimovic, il pallonetto Ibra, esterno, rete! Ibrahimovic è l'intero in vantaggio! Stankovic dal fondo e la crossa retrato, Quan tocca male! Rischio per la Roma! Accelera Maikon, si provano in centralmente a montare il pallone di ritorno per Maikon, in area di rigore Maikon, Maikon, parte il tiro! La palla a scuola lì, croce di Paiva sul fondo, straordinaria accelerazione di Maikon! La rotta apre, in posizione regolare, il tiro di De Rossi, la palla scuola in palma sul fondo! Palone morbido per Sisigno, va a chiudere Zanetti, si coordina Sisigno, il destro, secondo palo, sbucca Totti, prova al volo, il controcrozzo di testa Vucinic! Alto sopra la traversa, grande Roma in questo finale di primo tempo! Puntari in verticale per Iprejmovic, parte Iprejmovic, a vuoto Loria, c'è Quanno Iprejmovic in area, il sinistro, rete, rete Iprejmovic! Ancora lui! Dentro per Totti, cerca Aquilani, l'apertura a sinistra, Vucinic in verticale, al volo! Che bella azione! Straordinario Giulio Cesar! Che bella azione! Si è riserito Sisigno in modo perfetto! Tutto corto l'angolo, il pallone per Totti, Aquilani, zona tiro, parte il destro, Aquilani, Giulio Cesar in calcio d'angolo! Parte Quaresma, secondo palo, si coordina Doni, poi lascia, pallone messo fuori da Sisigno, zona tiro, il destro, e c'è un gran gol di Stankovic! E' chiuso Binna, prova il sinistro, rete! E' incredibile! Che dire, grande ripartenza! Manzini, palo, poi Ibra! Già il fischietto in bocca, Rizzoli, game over all'Olimpico! L'Inter travolge la Roma, finisce 4-0! I prossimi due stagioni per il loro potenziale, dopo sette giornate non può essere decisiva, ma il risultato di stasera può pesare come se può pesare sulla prosegua del campionato! Stadio Olimpico e ancora Roma-Inter, una buona serata da Maurizio Compagnoni! E Antonio Di Gennaro! Risa ha recuperato il pallone, di sinistra la Roma, spinge Rise, accompagna Vucinici, si accetta Rise, porta il tiro! Conclusione improvvisa, blocca Giulio Cesar! Attenzione! Attenzione, posizione regolare di Ibraimovic! E' uscito Doni, porta voto Ibraimovic, il pallonetto Ibra, esterno, rete! Ibraimovic, l'Inter in vantaggio! Stankovic dal fondo e la cross arretrato, Quan tocca male! Rischio per la Roma! Accelera Maicon, si provano in centralmente a puntare, pallone di ritorno per Maicon, in area di gore Maicon, Maicon, parte il tiro! La balla a scuola lì, croce di Pai va sul fondo, straordinaria accelerazione di Maicon! Rotta apre, in deposizione regolare, il tiro di De Rossi! La balla a scuola in palo, va sul fondo! Palone morbido per Sissigno, va a chiudere Zanetti, si coordina Sissigno, il destro, secondo palo, sbucatotti, prova al volo, il controcrossi di testa Bucinic! Alto sopra la traversa, grande Roma in questo finale di primo tempo! Puntari in verticale per Ibrahimovic, parte Ibrahimovic, a vuoto Loria, c'è Quanno, Ibrahimovic in area, il sinistro, rete, rete, Ibrahimovic! Ancora lui! Dentro per Rettotti, cerca Aquilani, l'apertura a sinistra, Bucinic in verticale, al volo! Che bella azione! Straordinario Giulio Cesar! Che bella azione! Si è rinserito Sissigno in modo perfetto! Tutto corto all'angolo, il pallone per Rettotti, Aquilani, zona tiro, parte il destro, Aquilani! Giulio Cesar in calcio d'angolo! Parte Quaresma, secondo palo, si coordina Doni, poi lascia, pallone messo fuori da Sissigno, zona tiro, il destro! E c'è un gran gol di Stankovic! E' chiuso Binna, prova il sinistro, rete! Incredibile! Che dire, grande ripartenza! Manzini, palo, poi Ibra! Già il fischietto in bocca, Rizzoli, game over all'Olimpio!